c'è un po' di gente benvenuto faccio non pensiamo sì Grazie. Signore delle Cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, ma ti preghiamo, su nel paradiso, su nel paradiso. Lassalo andare per le tue montagne. Santa Maria, Signora della neve, copri col bianco soffice il mantello. Il nostro amico, nostro fratello, su nel paradiso. Su nel paradiso, su nel paradiso. Lascialo andare per le tue montagne. Bene, grazie. La speranza di un mondo e di un paradiso di letizia e di consolazione. Io ho voluto cominciare la visita pastorale dal cimitero. Vorrei dire perché ho desiderato questo inizio della visita pastorale alle due parrocchie, nella comunità pastorale che oggi incontrerò nelle diverse celebrazioni, nei diversi incontri. Ma un primo motivo per cui ho scelto di cominciare la visita pastorale dal cimitero è la professione di fede nella risurrezione. Quindi qui veniamo a pregare per i nostri morti, veniamo a deporre un fiore, a sostare un momento in ricordo perché noi cristiani siamo convinti che coloro che sono qui sepolti risorgeranno, che Gesù è risorto. E noi siamo chiamati alla risurrezione. Questa fede nella risurrezione sembra che oggi sia estranea alla cultura del nostro tempo. Faremo la messa a Bovisio. Grazie. 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 Quindi abbiamo fatto ascoltare i canti, i canti sono le sensazioni e li abbiamo fatti mettere in dipinti. Quindi poi c'è il QR code, ci sono i canti e tutti i lavori che hanno fatto con i disabili con le scuole elementari eccetera. poi inquattando il QR code con il telefonino si sente il canto del coro e si confrontano le sensazioni quindi volevamo donarlo a Naomi Rian di tutto il coro e questo qua è il cd che è stato registrato in campanella dove adesso poi andiamo grazie grazie mille, possiamo fare una foto? e se vieni qui, abbiamo la divisa quasi uguale grazie mille grazie a tutti 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 grazie a tutti